In un mondo che soffre la crisi di una grande orfanezza, noi abbiamo una madre e un padre che ci accompagnano e ci difendono. Lo ha detto Papa Francesco alla messa del mattino celebrata a Casa Santa Marta, nel giorno della festa della Beata Vergine Maria Adolorata. L'Evangelista Giovanni racconta che Maria rimane ai piedi della croce mentre gli altri discepoli sono già andati via, lasciando la madre del Signore sola ad affrontare gli insulti e il disprezzo della folla che la considera come la madre di un delinquente o di un sovversivo. Lei resta impassibile davanti alle umiliazioni, sopportando un grande dolore, piangendo il figlio morto. Noi cristiani abbiamo madre, la stessa di Gesù. Abbiamo padre, lo stesso di Gesù. Non siamo orfani. E lei ci partorisce in quel momento con tanto dolore, ma è davvero un martirio. col cuore trafitto, ma accetta di partorire tutti noi in quel momento di dolore. E di quel momento lei diventa la nostra madre. Da quel momento lei è la nostra madre. quella che prende cura di noi. E non si vergogna di noi. Ci defende.